Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. Grazie a tutti. 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 San Pellegrinetto, Borgo, che si perde nelle Papuane. Guardate che spettacolo. Guardate che bellezza. Borgo, che è un'esplorazione, che è un'esplorazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.